Ancora una volta uno dei programmi culturali, artistici e spettacolari più belli d'Italia per una città che a settembre registra il tutto esaurito della presenza dei turisti, quindi confermando un boom prodigioso che da alcuni anni ci contraddistingue e che quindi ci sprona, ci stimola, ci sollecita a qualificare sempre la nostra offerta culturale per offrire ai nostri concittadini e ovviamente ai tanti viaggiatori delle occasioni di incontro con la grande cultura e con la grande arte di Napoli. L'estate della cultura e del turismo continua e settembre offre ancora musica, teatro, concerti e mostre d'arte. La città, aperta per ferie ad agosto, prosegue tra tradizione e innovazione, dal maschio angioino a San Domenico Maggiore, alle chiese, ai parchi ed ai musei. Dalla ripresa della Notte della Tamorra sul lungomare, sospesa per lutto a Ferragosto dopo la tragedia di Genova, ai concerti di Spina Corona, le feste religiose tradizionali, fino al 75esimo anniversario delle quattro giornate. Mi vengono in mente, così come sempre, due appuntamenti importantissimi per noi, la festa di San Gennaro e quest'anno le quattro giornate di Napoli, di cui ricorre il 75esimo anniversario e anche il 75esimo anniversario del sacrificio di saldo d'acquisto e quindi avremo al San Carlo il concerto della Banda Nazionale dell'Arma dei Carabinieri come centro di un'occasione importante che è insieme civile, culturale e di arte perché tra l'altro quest'anno era anche il 70esimo della promulgazione delle leggi razziali e quindi grande tema di discussione, di incontro e di dibattito.